Ehi, come stai? Sì, spero tu stia benissimo, io sto abbastanza bene e come tutte le altre sere ti chiedo di metterti subito comodo e di rilassarti. Indossa le cuffie per un ascolto più intenso. E in questo video voglio soltanto riuscire a farti dormire profondamente. E per farlo utilizzerò il nostro Fluffy con il suo ipnotico suono. E un countdown da 50 a 0. Ma in realtà messe avrai da 100 a 0 perché al minuto che vedrai qui e anche giù in descrizione inizierà il conto con effetto ecosound. Quindi li potrai scegliere entrambi oppure puoi decidere con la versione ad ascoltare. Io direi di iniziare subito. Quattro. 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 48 47 47 47 47 47 46 46 46 46 46 46 45 45 45 45 45 45 44 44 44 44 44 43 43 43 43 43 43 43 43 42 42 42 42 42 41 41 41 41 41 41 41 42 42 42 42 42 42 42 42 39 39 39 39 39 39 39 38 38 38 38 38 37 37 37 37 37 37 37 36 36 36 36 36 36 35 35 35 35 35 35 35 35 34 34 34 34 34 34 34 33 33 33 33 33 33 33 33 32 32 32 32 31 31 31 31 31 31 31 30 30 30 30 30 30 30 29 29 29 29 29 29 29 29 29 28 28 28 28 28 28 28 28 27 28 28 28 29 29 25 25 25 25 25 24 24 24 24 24 24 24 23 23 23 23 23 23 23 23 22 22 22 22 22 22 21 21 22 22 22 23 23 24 25 25 25 19 18 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 19 19 20 20 20 quindici quattordici 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 tredici 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 dodici 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 ondici 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 11 10 10 9 9 9 9 9 9 9 9 10 10 12 12 13 13 13 14 15 15 15 16 16 16 16 18 18 19 20 20 20 20 20 20 20 20 20 21 22 22 22 è zero 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 cinco 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 cuatro 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 quarantasette quarantasette quaranta sei quarantasette quaranta 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 corromp guardon guardon colo colo Sì trentasai trentasai trenta 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 trentaca trenta trenta Trent Venti nove Venti nove Venti nove Venti 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 20 30 40 40 40 40 40 40 40 40 40 41 41 41 42 42urtro venti ventitru 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 Ciao Satisfatto Quattro Tres 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 Nob, nob, nob Nob, 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 nob O-O-O-O-O-O Time Sì Sì Oh 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 Moth o-o-o-o e tzart rinoc buona nua 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 nu Grazie a tutti